L'avete visto no? Io ce l'ho, mo' lo proviamo insieme, è questo, questo, questo è quella roba lì tutta brillantinata che avete visto sulle labbra di quella personcina lì Vi risolverò la vita in arrivo Ebbene si Beauty Grammini, oggi proviamo insieme proprio quel prodotto là che tra l'altro io ho anche tutti gli altri colori Quindi proviamo questo che ha fatto tanta tanta hype ma poi se volete ne proviamo anche altri colori, scrivetemelo nei commenti Prima ti ricordo sempre di iniziare a seguire se è qui che è su G dove mi chiamo con lo stesso nome e di salvare questo video salvavita se vuoi vedere i prossimi Allora io non sono pronta ve lo dico però ci proviamo No, non sto capendo il gioco No Allora, a parte che è tipo super cremoso È super morbido Cioè ma Ve lo faccio vedere da vicino eh Ma tutti si glitter? Ma voglio fare pure io la prova del flash e vediamo cosa viene fuori E non so se avete capito No Non so se avete capito il gioco Cioè io lo amo Raga Questo si che è glitter E voi cosa ne pensate? Fatemi sapere nei commenti Ma soprattutto proviamo qualche colore Tipo non so Questo C'è il rosso C'è il fucsia Cioè ce ne sono Veramente guardate questo quanto è bello Cioè ce ne sono di tutti i colori Fatemi sapere Io vi aspetto E ci vediamo al prossimo video Un bacio Volevo farvi vedere l'ultima cosa Ho provato a toglierlo e Cioè i glitter Qua stanno Io scioccata